Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie, il tempo che farà per questo fine settimana. Una grande novità, ritorna sull'Italia in maniera ancora più robusta l'anticicolone nordafricano che interesserà soprattutto il centro nord tra venerdì 9 e mercoledì 14. Ma andiamo con ordine, venerdì come potete vedere bel tempo ovunque e le temperature massime saranno ancora intorno ai 30 gradi. Sabato ancora bello e soleggiato su tutta l'Italia, le temperature massime saliranno al centro nord tra 30 e 32 gradi su Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma la giornata più rovente sarà domenica quando sulle medesime regioni appena citate le temperature massime addirittura toccheranno i 33-35 gradi con qualche punta di 36 gradi. Bene termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci, dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.